Ciao a tutti ragazzi sono sotto assedio aiuto sono sotto assedio dai goblin adesso esco da casa è arrivato l'esercito di goblin molto prima del previsto sono veramente in tanti e io non so se non so se ce la farò di sicuro però veramente sono in tanti poi ci sono varie categorie di goblin il goblin normale ladro il goblin ladro che è più veloce ma meno resistente si fa per dire poi c'è il goblin arciere che aspettate un attimo oddio sono nei guai allora c'è il goblin guerriero che è il più resistente e il più forte ovviamente il goblin stregone che è molto meno resistente però fa gli attacchi magici a distanza oh madonna puttina è ora di porca puttina è ora di cambiare oddio quanti cazzo ce ne sono ecco sono morto sono morto subito ovviamente l'armata di goblin non si fermerà perché sono morto anzi ci sarà ancora perché io una volta la prima volta che è arrivata l'armata di goblin a casa mia in un'altra partita avevo provato a farmi uccidere pensando vabbè tanto se ne vanno invece no magari se ne vanno rimangono fino a quando noi non li abbiamo sconfitti del tutto quindi sarà un bel impegno ecco però io ovviamente muoio anche adesso perché sono veramente in troppi e ci serve qua una delle armi molto più avanzate sono veramente più forti di quel che credevo è veramente cioè credo che fosse una cosa già più semplice invece no allora prendiamo tempo infermiera curami depositiamo allora possiamo usare la bomba gli shuriken ovviamente sono in una situazione d'emergenza una di queste pozioni è questa va bene ok adesso passiamo subito all'azione guardate quanti ce ne sono vabbè il goblin arciere ha resistenza pari al goblin ladro media diciamo il goblin stregone è quello che rompe più di tutti perché contribuisce alla nostra sconfitta c'è il goblin operaio che ha una resistenza di 60 il goblin guerriero l'ho già detto no dai quanti cazzo ce ne sono allora distruggiamo e uccidiamo i goblin stregoni madonna ragazzi quanti ce ne sono sono veramente in troppi troppi allora qua è morto lo stregone oh mamma mia c'è anche l'arciere che fa la sua parte oh cazzo oh madonna i goblin ladro è veramente velocissimo che cazzo è una cascata di frecce porca è meglio se non ci rintanniamo in casa perché distruggeranno le porte e uccideranno gli NPC l'infermiera dove Cristo è oh bene meglio oh grazie l'infermiera ci può dare una mano oh guardate oh guardate che strage questa è la cosa buona e guardate quanti madonna di soldi mi danno lì devo andare a murare l'entrata perché altrimenti qua distruggono tutto venite qua sono qui io venite qui c'è il goblin eh vabbè il guerriero arciere ho capito no li abbiamo già detti questi maa Cristo e moriamo qui eh però lì c'è l'infermiera quindi ma se io mi devo assumere questa responsabilità goblin ladro beh ciò che hai rubato è la mia pazienza ma Cristo va bene lì non possono più andare non posso da lì non possono più entrare quindi non possono eh assediarci su entrambi i fronti figata proprio come se fossimo in una guerra beh siamo in una guerra allora io direi facciamo una bella cosa li attiriamo tutti in un punto e adesso con la palla del dolore li devastiamo tutti che può causare guardate quanti danni causa questo qua oppone minima resistenza quelli più rompicoglioni di sicuro sono gli stregoni e gli arcieri mentre i guerrieri cioè dai rompono di meno perché insomma ti affrontano corpo a corpo no sono diciamo le ali diciamo eh madonna quanti devo avere una pozione dai muori ovviamente la il flagello di luce la nostra spada non è che dà un contributo così grande alla sconfitta di questi goblin ci sarebbe servita una spada più già più potentina come la spada laser ecco ciò da evitare assolutamente è l'assedio dei goblin su entrambi i fronti cioè sia da destra che da sinistra perché è un cerchio che poi si chiude e noi ovviamente ne usciamo devastati anzi non ne usciamo neanche perché moriamo la cosa buona di questa armata di goblin è che ci danno un casino di monete veramente eh ciao quanti io adesso il numero esatto dei goblin in un'armata non lo so magari credo che possa anche cambiare secondo me non è fisso a volte sono tanti a volte sono pochi mi ricordo oh l'esercito di goblin è stato sconfitto proprio va bene abbiamo finito e cazzo sì è stato sconfitto per modo di dire perché questi qua ci sono ancora nel senso è stato sconfitto che non ne arrivano più ok adesso noi andiamo a raccogliere tutte le monete e robe varie che ci hanno droppato ci siamo arricchiti alle loro spalle ma veramente la nostra casa un po' è alle porte che sono devastate io mi immaginavo che qua ci fossero altri goblin invece no beh mai aspettate devo togliere quel coso di terra ole vediamo quanto ci hanno droppato uh due d'oro perfetto andiamo immediatamente a depositarli ah ovviamente qui ci sono delle altre monete la porta piazziamola qua cioè la casa che un tantino è devastata però ne siamo usciti vivi per modo di dire perché siamo morti due volte adesso depositiamo un po' tutti i nostri drop e prendiamo insomma ciò che stavamo facendo prima ragazzi sembra che io sia terribilmente vicino all'underworld qua sto vedendo uno scheletro che mi dà il benvenuto ma gli scheletri sono un paradiso in confronto ai mob che ci aspettano nell'underworld io veramente non so neanche dov'è che atterrerò adesso spero non in un luogo dove mi spaccherò la testa oh beh non è che ci sia mancato molto eh qua c'è dell'ossidiana che io raccolgo e ho raccolto prima dov'è la mia ossidiana oh 53 pezzi di ossidiana ahia cazzo oddio se la starà attentissimi eh qua evidentemente deve essere scesa dell'acqua cazzo adesso voglio mettere della terra qui perché qua qualcuno si farà male vabbè qualcuno io perché se i mob si fanno male non è che me ne freghi tanto prendo le torce e adesso comunque sia no cazzo che cosa è successo una trappola eccomi così mi sono anche avvelenato dunque io direi adesso di fare un sentiero parca puttana mi ricorda una parte che avevo fatto dove avevo esplorato una zona tipo questa ma chissà se sarà appunto questa non ne sono certo e non credo adesso faccio una piccola scalinata oh guardate che cosa ingegnosa che faccio io olè andiamo giù di qua oh ma secondo me qua ci siamo già stati perché qui vedete che è stato preso del del ferro adesso faccio un piccolo taglio e ci sentiamo quando sono più giù allora sono scampato alla morte per un soffio perché ho attivato una trappola che buttava giù un masso spero di non attivarne altre perché come sapete nella patch insomma nella nuova versione di terraria 1.1 sono state aggiunte queste trappole che traggono in inganno qua lì c'è un life crystal lo prendiamo subito ok adesso però ovviamente il mio obiettivo adesso è andare nell'underworld ok l'abbiamo assunto ciao vediamo un po' oh cazzo merda qua facciamo una cosa perfetto vai oddio madonna ma quanto cavolo ci mettiamo ad andare in quest'underworld credevo che fosse un pochino più semplice porca no oddio vabbè ragazzi lo vedremo nella prossima parte perché questa qua ormai è finita va bene ci sentiamo ciao ciao ciao